Ciao gente, allora questo post per parlare del fatto che stanno togliendo i like da Instagram e da Facebook su Instagram è stato già fatto, infatti quando una persona pubblica un post non è più possibile vedere quanti like ha quel post e si dice in giro che molto presto anche Facebook farà la stessa cosa quindi sotto i post di Facebook non sarà più possibile vedere i like e molto probabilmente anche i follower non saranno più visibili ma perché lo fanno? Perché i social stanno prendendo questa piega e vanno in questa direzione? Allora, la dichiarazione ufficiale è che in questo modo si dà più attenzione al contenuto del post e non alla persona sappiamo che molte persone si fanno condizionare dall'azione degli altri di conseguenza se ad esempio un influencer o una persona che ha molti follower, molte visualizzazioni perché magari ha carisma però non per forza segue delle idee corrette rischia di influenzare la massa e la massa, cioè le persone, come posso dire, non voglio dire semplici però molte persone è risaputo che in base a quello che fanno gli altri riprendono delle decisioni e quindi si fanno influenzare in questo senso visto che molti seguono questo contenuto vorrà dire che questo contenuto è speciale vorrà dire che chi parla ha ragione di conseguenza si toglie dal web questo effetto aggregazione allora, da questo momento in poi tutti i post non avranno più i like visibili e quindi se il post comunica informazioni sensate e attirerà l'attenzione della persona sarà premiato, altrimenti no, soltanto chi lo ha generato potrà vedere il like facciamo un esempio con il discorso delle fake news in questo senso non credo che sia valido il discorso perché è vero, una persona con molti follower potrebbe condividere delle fake news e influenzare le persone non vedere i like è un deterrente però se la persona comunque non è in grado di non ha senso critico per individuare e capire che si tratta di una fake news ugualmente crederà al contenuto questo depenalizza moltissimo gli influencer cioè gli influencer che sono tali senza avere una valida ragione per esserlo magari, non so ciao Ivan prendiamo le starlet, prendiamo le blogger e via dicendo che magari solo per l'estetica e per le foto che pubblicano su Instagram sono molto seguite e di conseguenza se non si potranno più vedere i follower e se non si potranno più vedere i like sarà difficile per l'utente capire se chi sta pubblicando è una persona che è seguita da molti oppure da pochi come a questo punto potrà capire che quella persona ha un vasto pubblico in base alla diffusione della notizia cioè se quella notizia in una giornata sarà condivisa un tot volte e se ne parlerà spesso è evidente che in molti la staranno ripubblicando o ne staranno parlando quindi ripeto questa cosa è già stata fatta su Instagram e verrà fatta su Facebook si dice non so se YouTube o comunque e gli strumenti che fanno capo a Google seguiranno la stessa linea ma penso proprio di sì quindi in questo modo le fake news e i contenuti di poco valore non potranno più essere veicolati da persone famose e da persone che hanno tanti follower a prescindere è un'azione che depenalizza gli influencer? è una cosa giusta? non lo so dammi la tua opinione tu che cosa ne pensi? è giusto che i social vadano in questa direzione esprimi la tua opinione con un commento ciao